amici di battista 70 phone oggi vi parliamo del nuovissimo cmf phone 1 sub brand di nothing devo dire che ci ha ben impressionato perché comunque abbiamo dei prezzi davvero interessanti 239 per la 8128 e 269 per la 8256 e parliamo di un terminale che comunque ha un display amoled da ben 6 pollici e 7 inoltre abbiamo un processore mediatek 7003 che è lo stesso montato su un terminale di fascia decisamente superiore quindi devo dire che si sono impegnati davvero molto cosa molto interessante è l'intercambiabilità della cover poi lo vedrete meglio da vicino in ogni caso qui ci sono delle vitini da svitare e si può cambiare la cover e ce ne sono altre di vari colori arancione verde blu e qui sotto c'è una una sorta di rotella che si svita adesso finiamo di svitarla così vi faccio vedere e qui possono essere messi vari accessori che si trovano sul sul sito cmf nothing e chiamatelo come come volete e potete attaccare il laccetto c'è un tipo un pocket c'è uno uno stand insomma devo dire che è una cosa molto originale che ci fa un pochettino tornare indietro nel tempo soprattutto per l'intercambiabilità delle cover come i tempi dei vecchi nokia quelli che hanno la mia età si ricorderanno sicuramente quindi un plauso a carpei e comunque c'è tutto un vario chiamiamolo ecosistema perché comunque abbiamo anche le cuffie abbiamo l'orologio tutto diciamo prodotti di buona qualità ma a prezzi veramente davvero molto competitivi parliamo un po di questo telefono velocemente del display vi ho detto ha comunque una buona luminosità è un amoled 2000 nit di picco per cui insomma stiamo parlando di un prodotto davvero molto buono come come display di una buona un'occhiata al video e sentiamo anche l'audio ripeto audio mono però non è assolutamente niente male comunque vi dicevo il display super amoled quindi i colori sono davvero molto belli amoled full hd plus 120 hertz 1080 per 2400 395 ppi 2000 nit insomma devo dire che non è assolutamente niente male ne vogliamo cercare il pelo nel luogo è solo i p52 non abbiamo l'nfc nella fotocamera è buono il sensore principale non è stabilizzato però devo dire un 50 megapixel di buona fattura il 2 megapixel di profondità non è eccezionale discreta la selfie cam insomma però signori ricordiamoci che stiamo parlando di un prodotto da 239 euro diamo velocemente qualche foto scattata con cm phone 1 non adesso allora io direi di partire dalle foto in notturna quella un po più complicate diciamo che il sensore non è proprio il massimo in notturna però se c'è un minimo di luce riesce a mantenere un po di definizione se ci si allontana come vedete la definizione cala e anche parecchio invece di giorno devo dire che si ottengono dei risultati decisamente migliori vediamo un pochettino qui qualche foto anche qui avviciniamoci vediamo che comunque il sensore principale è abbastanza discreto non eccezionale sensore di profondità adept che trovo abbastanza diciamo folkloristico se così vogliamo dire comunque diciamo nel complesso tenendo conto che un telefono da 239 euro 269 se volete la versione con più memoria comunque dai può anche andare quanto riguarda la parte telefonica la ricezione è davvero molto buona buono sia l'audio in capsula che in cuffia sentiamo l'audio in capsula e in cuffia facciamo la nostra solita chiamata 19 21 21 alziamo il volume al massimo caricala e per qualunque domanda accedi alla nostra officina la tua area di supporto con tutte le soluzioni se vuoi informazioni sul numero come avete sentito l'audio è solo mono comunque ha una discreta potenza in che altro dire ci siamo trovati davvero bene altre cose che ci sono piaciute l'ergonomia comunque è molto ergonomico ha un aspetto un po particolare diciamo che a prima vista non mi era piaciuto poi sinceramente boh forse il fatto che è un pochettino fatto in maniera particolare diciamo che ha avuto la mia attenzione come dicono alcuno è riuscito a ottenere la mia attenzione e devo dire che la mia idea è cambiata perché comunque adesso ho trovato un'utilità e poi ripeto un prodotto che costa solo 239 269 e tenete presente che comunque ha la memoria espandibile per cui se dovete risparmiare qualcosina e avete già una memoria che utilizzate in altri telefoni lo potete fare tranquillamente batteria da 5.000 mAh e autonomia veramente eccezionale insomma che altro dire a noi è piaciuto veramente e quindi ve lo consigliamo con questo concluso un saluto da loris e da lucio per battista 70 phone insomma a in 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 in